Ciao a tutti! La lotta per le investiture sarà l'argomento di questo video. L'anno scorso avevo già fatto un video abbastanza lungo, mi è stato chiesto un video più breve e sintetico, cercherò di fare del mio meglio. La lotta per le investiture fu essenzialmente una lotta per la libertà della Chiesa, una Chiesa che voleva essere libera dalle ingerenze imperiali. Chi furono i protagonisti di questo scontro? Papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV. Questa lotta si concluse finì nel 1122 con il concordato di Worms. Però per capire bene la lotta per le investiture dobbiamo tornare un po' indietro. 476 d.C., la caduta dell'impero romano d'occidente, le invasioni barbariche, la guerra greco-gotica, la situazione nella penisola italiana era al di poco disastrosa. Violenze di ogni tipo, povertà, soprusi, anarchia. Vigeva la legge del più forte. Soprattutto si era creato un vuoto. Mancava il potere temporale. Le autorità locali durante le invasioni si erano dimostrate totalmente inadeguate per fronteggiare una situazione molto difficile. Spesso le erano anche scappate. Quindi qualcuno doveva coprire questo vuoto che doveva essere colmato in sostanza questo vuoto. Mancava un po' di potere temporale. Mancavano i funzionali del vecchio impero romano. Chi ricoprì questo vuoto? Questo vuoto fu ricoperto dalla chiesa dai sacerdoti e dai vescovi. In quel periodo i sacerdoti e i vescovi erano gli unici a saper leggere e scrivere. Avevano una certa cultura. E col passare del tempo iniziarono a occuparsi sempre di più, non solo di questioni spirituali, quindi la celebrazione della messa, i sacramenti, la teologia, l'aiuto dei poveri, ma anche di questioni temporali. Qualcuno doveva amministrare la giustizia, però non c'erano i giudici e questo lo faceva il vescovo. Qualcuno doveva riscuotere le tasse, sistemare le fortificazioni, le strade. Quindi la chiesa si occupò anche di tutte quelle situazioni, di tutte quelle, diciamo, occupazioni che prima invece venivano svolte dal potere temporale. Questo cosa provocò? Provocò sicuramente un aumento del prestigio e del potere della chiesa. La chiesa cosa rappresentava in quel periodo? Era la depositaria della parola di Dio, rappresentava l'autorità, la chiesa stabiliva questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata, questa cosa è buona, questa cosa è cattiva. E all'interno anche delle città il vescovo veniva riconosciuto da tutti come la grande autorità, non soltanto un'autorità spirituale, ma anche autorità a livello politico, a livello temporale. Però col passare del tempo questo sistema iniziò a creare dei problemi anche a livello spirituale e morale. Intorno al IX secolo, l'elezione del papa a Roma, le principali famiglie nobili lottavano con le armi, anche con la corruzione, per fare eleggere un papa della loro famiglia. Poi l'imperatore Ottone I il Grande, per contrastare i grandi feudatari, aveva creato una sorta di feudalità ecclesiastica, cioè lui aveva conferito privilegi e benefici a tanti vescovi. E questo perché? Perché mentre nell'ambito, diciamo, della feudalità laita i feudi venivano trasmessi dal padre al figlio, con la feudalità ecclesiastica il vescovo alla morte. Il vescovo non aveva figli, quindi questi grandi e immensi feudi, c'erano dietro tantissime ricchezze, tornavano alla carona. Tutto questo che cosa causò? Causò un problema morale all'interno della chiesa perché questi vescovi conti, quindi questi vescovi che venivano, che ottenevano tanti privilegi anche da parte dell'imperatore, col passare del tempo, molti di loro si comportarono più da conti che da vescovi, cioè si interessavano di politica, di ricchezze, l'amministrazione di questi feudi, il denaro, di questioni mondane, quindi erano poco vescovi e molto conti. E in molti casi, poiché dietro c'erano tante ricchezze, c'era il denaro, diversi vescovi non avevano neppure una vocazione, non erano preparati, non conoscevano la sacra scrittura, non sapevano nulla di teologia e questo causò un grave problema morale all'interno della chiesa. Quali erano i due grandi problemi? Il primo problema è la simonia, cioè la vendita degli uffici uffici ecclesiastici, degli uffici sacri. Il termine deriva dagli atti degli apostoli, Simon Mago aveva detto agli apostoli datemi la possibilità di fare dei miracoli, vi pago. Quindi la simonia era un problema molto serio, era la vendita degli uffici sacri. L'altro grande problema era il concubinato perché molti di questi sacerdoti, bescovi, cioè non avevano una vocazione, loro consideravano il sacerdozio un lavoro come un altro, erano interessati al potere, alla ricchezza e quindi si sposavano, avevano dei figli e quindi andavano, non rispettavano le leggi della chiesa, il voto di castità. Tra l'altro la chiesa non era neppure libera per quanto riguarda l'elezione del papa. Nell'824 la costituzione romana emanata da Lotare e figlio di Ludovico il Pio aveva stabilito che sì, il papa doveva essere eletto dai soli romani ecclesiastici e anche il popolo, però poi il papa doveva giurare fedeltà all'imperatore, quindi la chiesa non era più di tanto libera. Poi poco prima del inizio della lotta per le investiture, precisamente nel 1045 addirittura c'erano tre papi all'interno della chiesa, quindi il caos più totale. Intervenne l'imperatore Enrico III per risolvere questa situazione, addirittura convocò un concilio qui vicino a Pavia e in questo concilio i papi, questi tre papi furono deposti, però fu eletto un papa di suo gradimento e poi lui con il principatus in elezione pape, cosa ottenne? Ottenne il diritto di presentare un candidato papa di suo gradimento. Questo che cosa significava? Praticamente che l'imperatore sceglieva il papa. Quindi prima dell'inizio della lotta per le investiture la situazione era drammatica all'interno della chiesa, chiaramente non tutta la chiesa, anche in quell'epoca c'erano sacerdoti per bene, vescovi molto seri, c'era però questa situazione, c'erano questi problemi, simonia, concubinato, questi vescovi conti, quindi che non facevano i vescovi ma si interessavano, avevano interessi solo per il denaro, per il potere, per la ricchezza. Nel 1054 c'era stato lo scisma, quindi la chiesa di Costantinopoli, la chiesa d'oriente si era separata da Roma, dal papa e allora qualcuno cominciò a dire qui dobbiamo fare qualcosa per la chiesa, dobbiamo intervenire, dobbiamo mettere un po' di ordine perché abbiamo preso una strada completamente sbagliata, stiamo andando fuori strada, c'è una chiesa che sta vivendo un'epoca, un periodo molto molto difficile e il desiderio quindi di riformare e di rinnovare la chiesa partì da un monastero, il monastero di Cluny, che era stato fondato da Guglielmo e da Cdania. Nel giro di pochi anni sorsero una miriade di questi monasteri in tutta Europa, anche in Italia, e questi monaci furono dei monaci riformatori, i monaci sedi, avevano la vocazione, pregavano, facevano penitenze, volevano veramente una rinascita della chiesa, una chiesa che doveva occuparsi soltanto delle questioni spirituali, quindi una chiesa lontana dal potere, dalle ricchezze, una chiesa quindi che doveva ritornare alla semplicità evangelica, la vera chiesa di Gesù e degli apostolici, quindi fu questo desiderio, questo sincero desiderio di riforma. Papa Gregorio VII, il cui nome era il De Brando di Solana, veniva da questa scuola, era un monaco benedettino ma aveva questo desiderio, questo sincero desiderio di riformare la chiesa e fu proprio lui a suggerire al Papa Niccolò II, il quale convocò un concilio, prima cosa, la chiesa doveva essere libera, cioè il Papa doveva essere scelto dai cardinali, l'imperatore doveva starsene a casa sua, non doveva decidere lui il Papa e quindi Papa Niccolò II convocò un concilio allenatore a Roma nella Basilica della Terano e fu deciso questo, cioè che il Papa doveva essere eletto solo dai cardinali e non doveva esserci quindi nessuna ingerenza da parte dell'autorità imperiale. Poi finalmente nel 1075 il De Brando di Solana fu eletto Papa e prese il nome di Gregorio VII. Cosa fece lui questo Papa continuò l'opera di riforma all'interno della chiesa, convocò dei concili, fu ribadita la contanna della simonia, del concubinato e scrisse un documento molto importante, il Dictatus Pape. Tra le tante cose questo documento rappresenta in pieno la teocrazia. Il Papa è il primo monarca sulla terra in quanto rappresentante di Gesù, quindi il potere spirituale è superiore al potere temporale. L'imperatore non deve interferire nella vicenda della chiesa e deve essere sottomessa alla chiesa proprio perché il Papa in quanto vicario di Gesù sulla terra è superiore, ha un potere superiore a quello dell'imperatore. Nel frattempo fu poi eletto, divenne imperatore Enrico IV. E che cosa fece Enrico IV? Questo imperatore nominava i vescovi, cioè era lui a dire questa persona deve fare il vescovo. Il Papa disse no, assolutamente no. Il vescovo, i vescovi devono essere scelti dalla chiesa, li deve scegliere il Papa. D'altronde come avviene oggi? Oggi il Papa, il Papa Francesco decide, questo uomo deve fare il vescovo e legge i cardinali. In quel periodo l'imperatore cosa faceva? Si intrometteva nelle vicende della chiesa e diceva no, io questa persona lo voglio fare, deve diventare vescovo, deve diventare arcivescovo. E il Papa diceva no, assolutamente, la chiesa deve essere libera, l'imperatore non deve interferire e dobbiamo essere noi a scegliere i vescovi e i cardinali. E iniziò questo scontro tra Papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV. E poiché l'imperatore faceva di testa sua, il Papa lo scomunicò. A quell'epoca la scomunica aveva un peso enorme, non era soltanto una pena a livello spirituale, come d'altronde oggi una persona scomunicata, esclusa dalla comunità dei fedeli, non può accedere ai sacramenti, questo oggi e anche in quel periodo. Però, essendo Enrico IV un imperatore, quando l'imperatore veniva scomunicato, i suoi sudditi erano svincolati dal giuramento di fedeltà e questo creò all'imperatore problemi seri, perché i fedeli poi si ribellarono, non rispettavano più la sua autorità, proprio perché non erano più obbligati al giuramento, al vincolo di obbedienza e di fedeltà. E allora Enrico IV cosa fece? Doveva farsi togliere questa scomunica, aveva bisogno urgente di farsi togliere la scomunica. E allora incontrò il Papa, ci fu il famoso incontro a Canossa, a Canossa si trova vicino a Reggio Emilia nella residenza di Matilde di Canossa. Matilde di Canossa era un'alleata del Papa, era una fedelissima del Papa. E qui l'imperatore Enrico IV per tre giorni attese il Papa, chiese perdono al Papa e si fece togliere, la scomunica fu tolta. E questo episodio passò alla storia come l'umiliazione di Canossa, quindi l'imperatore si umiliò, abbassò la testa, chiese perdona al Papa e la scomunica fu tolta. Ancora oggi quando si dice se è stata a Canossa si indica una persona che si è umiliata, che ha fatto un atto di umiltà, che si è sottomessa. E quindi ci fu questo momento di pace. Però cosa fece l'imperatore? Che già comunque in un primo momento aveva fatto deporre Papa Gregorio VII da un'assemblea di vescovi tedeschi. Tornò in Germania, sconfisse i feudatari che si erano ribellati alla sua autorità, poi prese l'esercito diretto verso Roma, volendo appunto scontrarsi con il Papa. Fece deporre di nuovo il Papa facendo eleggere un antipapa, l'antipapa se non erro è Clemente III e quindi Enrico IV diretto verso Roma fu scomunicato per la seconda volta da Papa Gregorio VII. Cosa fece il Papa? Si rifugiò a Castel Sant'Angelo e in suo aiuto vennero i Normanni che bloccarono Enrico IV, però poi il Papa seguì i Normanni fino a Salerno dove morì nel 1085. Quindi Gregorio VII morì nel 1085 a Salerno. Ancora oggi questo Papa è seporto nell'uomo di Salerno. Tra l'altro è stato poi fatto anche santo da parte della Chiesa perché ha rappresentato quindi il Papa che è riformatore, un Papa che quindi voleva la libertà della Chiesa e soprattutto voleva riportare la Chiesa alla purezza evangelica. Quindi nel 1085 morì Papa Gregorio VII, morì dicendo le famose frasi, amai la giustizia, odiai l'iniquità. Poi nel 1106 morì l'imperatore Enrico IV, però la lotta per le investiture non era finita. E come si concluse questa lotta? Finì nel 1122 con il concordato di Worms. Cosa fu deciso? Questo concordato fu fatto dall'imperatore Enrico V e dal Papa Callisto II. Si decise, prima cosa fondamentale, l'investitura ecclesiastica, cioè il conferimento dell'anello e del pastorale spettava solo ed esclusivamente alla Chiesa. Quindi la Chiesa decideva, il Papa decideva, questo deve, l'uomo deve fare il bescovo, l'imperatore doveva starsene fuori. L'investitura invece temporale era di competenza dell'imperatore, quindi furono stabiliti dei limiti, dei campi precisi. Investitura ecclesiastica al Papa, investitura la e temporale l'imperatore, quindi il conferimento dei feudi, dello scettro e della spada. Altra cosa poi importante, se un ecclesiastico doveva essere eletto contemporaneamente bescobo e poi conte, in Italia e in Francia prima avveniva l'investitura ecclesiastica, quindi veniva fatto vescovo e poi l'investitura temporale, poi successivamente veniva nominato conte. In Germania invece in una situazione analoga, prima doveva essere fatta l'investitura temporale, quindi l'elezione a conte e successivamente invece l'investitura ecclesiastica, cioè l'elezione a bescovo. Altra cosa importantissima, la Chiesa finalmente ottenne la libertà nell'elezione del Papa, cioè l'imperatore non doveva assolutamente interferire nelle elezioni del Papa, quindi i cardinali, come avviene oggi, si riunivano e dovevano, potevano scegliere in libertà l'imperatore senza un imperatore che diceva dovete fare Papa quel cardinale o quell'altro cardinale, quindi una Chiesa che ottenne finalmente la libertà. Cosa rappresentò questa lotta? Sicuramente fu l'inizio di una riforma morale all'interno della Chiesa, il tentativo quindi di contrastare alcuni problemi, simonia, concubinato, attaccamento al potere, alle ricchezze, saranno poi cose che continueranno nel tempo. San Francesco e San Domenico sicuramente la Chiesa ottenne anche una certa libertà, però poi come ne ho parlato già anche nel video su Federico II e in altri video, non finiranno gli scontri tra l'autorità ecclesiastica e quella temporale. Basti pensare agli scontri tra Federico II di Sveve che fu scomunicato dai due Papi e lo scontro famosissimo di Papa Bonifacio VIII contro il re di Francia, Filippo il Bello. Quindi con la lotta per le investiture sicuramente non finirono i problemi all'interno della Chiesa e poi San Francesco e San Domenico chiaramente perché rappresentano quel tentativo di riformare sempre la Chiesa, di riportarla alla semplicità evangelica e poi ci furono altri scontri comunque tra il potere imperiale e il potere della chiesa come ho detto prima tra Federico II e alcuni imperatori e poi famosissimo lo scontro tra Bonifacio VIII e Papa e tra Bonifacio VIII e re di Francia Filippo il Bello. Va bene alla prossima e ciao!